...dai Cavalieri Giovanni dei Marchesi Aldi Maccarani, Palazzoni per l'Acqua di Torre e dal Nobile Filippo Maria Pertoni di Oveggio Caratello, che rappresentano due lance spezzate. Segue il colonnello di Cavalieria, Nobile Giovanni Niccolò dei Marchesi Marsello. Giovanni dei Marchesi Aldi Maccarani, Palazzoni per l'Acqua di Torre, dal Nobile Filippo Maria Pertoni di Oveggio Caratello e dal Nobile Giovanni Niccolò dei Marchesi Marsello. Con le loro colubrine, inizio i bombardieri. Ogni pezzo è traicato dai bombardieri, mentre... Oh my gosh, questo è loco. ...dunca poco in l'attaccia, consente le munizioni. Sparano il scopo di colubrina all'inizio della partita. Ogni volvino a chi viene segnato la caccia è al termine della gara.